Wabalabadabdabe, bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica Trailer Reaction nel giorno di Marvel D. Ieri è uscito il trailer di Venom 2. Vediamo, vediamo sta schifezza dopo il grande successo commerciale di Venom 1 in cui c'era questo personaggio, Eddie Brock, che pare essere vagamente coinvolto in quello che potrebbe essere il Marvel Cinematic Universe, ma è un film allo stesso tempo stand alone, dove il personaggio di Eddie Brock incontra per primo il simbionte alieno senza che passi da Peter Parker. Vabbè, non capisco. È fatto più successo di Spider-Man 3? Lasciamo perdere, vediamo questo secondo trailer dove c'è anche Carnage, quindi vediamo, vediamo un attimino. Quindi non so se avete capito che io parto un po' prevenuto, perché questa cosa a me di base non piace, non piace che la Sony faccia questo per poter mettere le mani sui personaggi di Spider-Man e non mollarli alla Marvel. Pronti? Via! I say leader, and I say leader, I say leader, and I say leader, 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 let's go! The world viva! The world viva! Catch up! Come? Buonasera Eddie Ehi signora Ceni Buonasera Venom Buonasera Ha detto ciao Stavo pensando a te Eddie Perché noi due siamo uguali Ogni decisione che preuniamo Chi ci lasciamo alle spalle E come li lasciamo Aspettando nelle tenebre E il salvatore che non arriva mai Bentornato a D-Brock N'è passato di tempo Il silenzio dei simbionti Tantissimo Arriverà il caos Il caos Arriverà La furia di carne In autunno al cinema Allora A parte che vabbè Mi piace un sacco L'attore che interpreta Carnage Anche se vabbè Mi sembra un po' Burto da dire Un po' fuori età Per interpretare un personaggio Che potrebbe continuare In tanti film Della Marvel Però vabbè Ci sta Cioè magari ne fa un paio Ne fa questo Ne fa uno con Spider-Man E può anche andare bene Però Non si è visto niente Fondamentalmente Si è visto questo inizio di trailer Quasi comico Che vabbè Ci sta per far vedere Che Venom Non è solo cattivo Quindi portate i bambini Al cinema Vedere Venom Che fa ridere Vabbè Ok E poi Sì Speravo di vedere Un po' di più Carnage Si vede pochissimo Pare Sembra quasi che Cletus Cassidy Quindi il personaggio Che assorbirà Il figlio di Venom Che è Carnage Pare che sia Sulla Sulla poltrona Per l'iniezione letale Sembra quasi Che gli iniettino Nel sangue Carnage Anziché L'iniezione letale Quindi Mi viene da pensare Come Come si arriverà a questo Ecco Questa cosa mi incuriosisce Questa cosa mi incuriosisce molto Poi vabbè Sarà un Film Dove si prenderanno a botte Tutto il tempo Dove Ci faranno vedere Che Venom Non è cattivo Perché esiste qualcuno Più cattivo di lui Ma l'avevamo già visto Nel primo film Quindi vabbè Sarà praticamente Un po' ripetitivo Però appunto Come dicevo Potrebbe essere collegato Al Marvel Cinematic Universe Soprattutto perché Sappiamo per certo Che è collegato Al film di Morbius Quello con Jared Leto Che uscirà E sappiamo che Il film di Jared Leto Nel trailer Si vedono dei poster In cui Spider-Man È ricercato Per l'assassino L'assassinio Di misterio E quindi Di conseguenza Anche questo Dovrebbe essere collegato Al Marvel Cinematic Universe Sempre in modo Unilaterale Ovvero che Il personaggio Di Spider-Man Della MCU Può apparire In questi film Ma questi non possono Apparire Nei film Negli Avengers Ok Però ecco Vediamo Questa cosa potrebbe Incuriosirsi Incuriosirmi Vedremo Dopo Spider-Man And the Multiverse Of Madness Cosa ci sarà In serbo Per Per Spider-Man Che probabilmente Verrà di nuovo Preso dalle mani Di Sony Si vedrà Si vedrà ragazzi Se non siete ancora iscritti Al mio canale Iscrivetevi al mio canale Mettete un bel mi piace A questo video E anche a tutti gli altri Mentre per chi È già iscritto Al mio canale Mi scuso Se ieri non è uscito Il mio video Su Flash Per il Lunedici Comics Lo riprenderò Settimana prossima Perché la puntata Mi è piaciuta molto E domani E venerdì Usciranno Le mie recensioni Sui fumetti Dylan Dog Color Festa E appunti del Derry Lang Quindi segnate la data Che arriveranno Anche quelli Per quanto riguarda Invece il mio retro Dylan Lo rimandiamo Alla settimana prossima Per non Mettere troppa carne al fuoco Sui fumetti Questa settimana Io come sempre Con l'inchino E con l'imbuto Vi saluto E vi dico Arrivedorci Al prossimo video Al prossimo video Al prossimo video